Ecco, come diceva anche Sua Eccellenza Monsignor Ditora, vorremmo in qualche modo che qualcuno, diversi tra voi, possano intervenire. Chiediamo magari di dire il vostro nome e chiederei anche di formulare con precisione magari la domanda, la richiesta di ciò che si vuole che possa essere approfondito o discusso. Prego. Buonasera a tutti, sono Salvatore Di Falco, vittoriese. Mi spiace cambiare il bel clima, ovviamente il mio intervento non avrà la stessa fantastica verve che ha padre Benamino, io ci sono abituato, parecchi di noi sono anche abituati. Sono contento perché è stata fatta questa iniziativa e sono contento perché è stata fatta a vittoria. E come diceva padre Benamino, abbiamo una bella tradizione di accoglienza. Io addirittura per ragione istituzionale ho avuto il piacere di scoprire che nella storia di questa comunità, di questa città, siamo stati più che accoglienti. Durante la prima guerra mondiale, eccellenza, questa città di vittoriesi ha accolto e ha accudito, si può dire, i prigionieri ungheresi e quindi erano i nostri nemici, eppure i vittoriesi sono riusciti a creare una sorta di passaggio sotterraneo pur di portare del cibo agli ungheresi che erano i nostri nemici. E l'Ungheria ancora ora, tutte le volte che ci incontriamo con questo scambio, con questo rapporto, è talmente grata del gesto che ormai è stato fatto tantissimi anni fa, a tal punto che proprio quest'anno, come amministrazione comunale, abbiamo con una telefonata comunicato che non andavamo in Ungheria e non li invitavamo per un gesto forte, forse eccessivo probabilmente, ma che aveva un significato ed era quello a cui si riferiva Monsignor Ditora quando abbiamo appreso della volontà dell'Ungheria di chiudere le frontiere a coloro che erano migranti. Certamente il problema dell'accoglienza è un problema reale, tremendamente reale ed attuale che tocca a ciascuno di noi. A me ha colpito però tutte e due le frasi del titolo del convegno e soprattutto migranti e rifugiati, il termine ci interpellano. E la mia memoria mi riporta nel 1978, avevo appena 14 anni, ma io senti padre Benemino Giovanni Paolo I che citò, scusatemi se adesso citerò male, ma mi ricordo che in un'udienza citò la Populorum Progresso di Paolo VI, riferendosi al fatto che i popoli della misera e della fame interpellavano i popoli dell'opulenza. Questa frase io me la ricordo come se fosse ora e mi colpì perché in realtà parlava di popoli, non parlava di stati, di sistemi, di organismi politici. E questo credo che ci deve fare riflettere, anche perché lei eccellenza faceva riferimento alla mancata globalizzazione dell'uomo. Vero è, accipicchia se è vero. Il paradosso però dove sta? Che la globalizzazione del denaro, delle merci, il traffico dell'economia e forse della plutocrazia questo comunque esiste. E forse sarebbe dovuto avvenire esattamente al contrario. Noi non siamo ancora capaci di essere trasferitori dell'accoglienza, del senso, del rispetto del genere umano e in realtà però i flussi di denaro e le merci e il commercio, tutto ciò che è moneta e tutto ciò che è ricchezza questo non viene mai bloccato, ma quantomeno non viene mai considerato come un elemento che potrebbe essere preoccupante per la nostra crescita relativa all'accoglienza. L'altra frase che mi colpisce è quella della misericordia. Ho avuto occasione di dirla questa cosa quando abbiamo conferito la cittadinanza in signa a Padre Benemeno. La bellezza di questo termine è profonda dal mio punto di vista. che la misericordia non è la pietà e non è nemmeno la compassione. Le contiene, però di fatto è qualcosa di più. Non è solamente la pietà che potrebbe essere l'elemosina oppure la compassione che può essere il sentire la sofferenza dell'altro. In realtà questo è un problema che non solamente le istituzioni, lo sentiamo un po' tutti, voglio dire. Il problema è che probabilmente la gente singolarmente riesce ad essere accogliente. Ma questo livello di accoglienza non si riesce ad averlo nei sistemi politici, se vogliamo anche nelle chiese. A me spesso capita, ora non per fare il verso a Padre Benemeno perché già ce l'ha detto di tutti i colori, però capita spesso ascoltare del timore che l'accoglienza possa essere di documento o per meglio dire di pericolo per la nostra fede, per le nostre radici diciamo dottrinari. Queste sono delle realtà che non ci spingono, quantomeno non sono di aiuto per una scelta vera e propria dell'accoglienza. Sebbene, e concludo, vorrei sottolineare un aspetto ed è una questione che io vivo anche personalmente. Il paradosso è un po' come diceva Padre Benemeno, Fin quando l'accoglienza è nelle scuole, fin quando l'accoglienza è nei centri di accoglienza, tutto va bene e ci può fare anche piacere. Nel momento in cui di questa accoglienza qualcosa deve riguardare un mio sacrificio economico o di altro genere, di questo siamo un po' trattenuti. Probabilmente anche perché abbiamo delle necessità dettate dalle esigenze di sopravvivenza spesso che accadono nelle famiglie per cui una sorta di egoismo ci porta a non essere propriamente accoglienti. Però devo dire che ciascuno di noi singolarmente riusciamo ad essere attenti al prossimo, riusciamo ad accoglierlo, ad aiutarlo. Tutti questi livelli rimangono solamente a livello personale. La dimensione, il salto di qualità, il salto della comunità, questo non c'è. E siccome a me piace pensare alla città e chiamarla non come città, chiamarla come comunità, c'ho questa paranoia, per me città sono dimensioni urbanistiche, dimensioni di servizi, la comunità è un concetto ancora più profondo, è un insieme di gente che riesce davvero ad essere un tutt'uno. Ecco, io dico che anche i laici, ma i cattolici in generale, riusciamo poco ad essere comunità e quindi entrare in un argomento ancora più importante, che non ho trattato ma dico solo il titolo, che è l'integrazione. Non ho finito, Domenico, scusami. Che è quello dell'integrazione. Lì non riusciamo ad essere ancora capaci, perché riusciamo ad essere accoglienti solamente nell'assistenza e non sentire integrate queste persone nella nostra comunità, tanto quanto vorremmo che fossimo noi. Grazie. Chiedo di essere sintetici proprio per dare la possibilità di intervenire a più persone. Buonasera, sono Bartolo Scilliere di Santa Croce Camerina. Mi interesso da un 30 anni di immigrate, perché Santa Croce è un paese particolare della provincia, che ha avuto quasi il 25% di immigrate in un piccolo comune, 10.000 abitanti, quelli ufficiali, e poi ne abbiamo qualche altro migliaio non legalizzati e fuori dal calcolo pubblico. Ricordo allora, 30 anni fa, quando arrivarono i primi coraggiosi che erano al di fuori del mondo completamente, vivevano dietro i murassecchi, sotto gli alberi di Carrubo, nelle case diroccate, la gente anziana, in particolare, si diede da fare per accogliere queste persone, organizzando addirittura, tramite anche le donne di azione cattolica, delle stanze in cui lavavano i vestiti, stiravano i vestiti per queste persone, perché non avevano altri vestiti per cambiarsi, per lavarsi, non abitavano in una casa, abitavano e dormivano sulla nuda terra, logicamente. Forse perché quelle persone si ricordavano dei genitori o dei parenti che erano emigranti ancora, o in America, oppure nei paesi dell'Europa. E da quelle occasioni naffero tante situazioni di solidarietà, di accoglienza, che oggi non c'è più, è scomparsa. Cioè io noto una differenza tra l'ora in cui c'era un bisogno di integrazione da parte di chi veniva da fuori e da parte di chi lo riceveva, e di solidarietà manifestazione alta. Oggi invece si è caduta nell'indifferenza completa di chi sta bene, oggi nella nostra società, e anche da parte degli immigrati che non chiedono integrazione. hanno i loro amici, le loro famiglie, il loro guadagno. Quindi si sono create due strutture, due società completamente diverse. E l'indifferenza è molto grave, perché l'indifferenza già implica non conoscenza dell'altro, e quindi non ci può essere né amore né solidarietà da due persone che non si conoscono. Il problema è grave, perché la nostra società, diciamo un po' ricca, che molte volte allontana chi è nello stato di bisogno, non vuole conoscere il povero, non vuole avere a che fare, si trova nella sofferenza, è una società di cultura cattolica, di tradizione cattolica, religiosa, ed è molto grave che questa maturità dell'amore non si nota nella società di oggi. Il Vangelo dell'amore di Dio rimane nella Chiesa molte volte, non esce fuori dalle mura, assieme alle persone che hanno assistito a una bella cerimonia e sono felici e contenti, al suono dell'organo dei canti che accompagnano la fine della Messa, però poi provano fastidio quando guardano quei poveretti che non hanno famiglia, che sono immigrati, seduti nella piazza, da cui si allontanano perché puzzano ancora qualcuno. Allora c'è qualcosa che non permette questo passaggio del Vangelo dalla Chiesa alla società, al territorio. Se il gregge, se la comunità non ha coscienza del problema, c'è qualcosa che non arriva a loro questo messaggio, non fa arrivare a loro questo messaggio. Allora diciamolo pure, bisogna che anche i religiosi, i diaconi, i laici, i cattolici praticanti, vivano il proprio territorio, conoscano il loro territorio, affrontano i problemi del loro territorio, vivono tra la gente che occupa quella comunità. Se noi stiamo distanti da chi ha bisogno, di chi ha problemi di disagio, di chi soffre, non siamo una comunità. È necessario che siano formati chi deve guidare queste comunità all'attenzione, all'accoglienza, all'amore verso gli altri, alla sensibilità. Bisogna abituarsi ad aprire il cassetto della parrocchia quando qualcuno ha bisogno. Bisogna abituarsi ad ascoltare la richiesta di aiuto quando si presenta a qualsiasi ora chi ha bisogno. perché sono del parere che chi ha bisogno effettivamente si presenta e ci mette la faccia a presentarsi e a chiedere a un'altra persona. Io mi interesso da 25 anni di immigrati per la Caritas e conosco bene il problema, però è necessario che, ed è molto pesante, ed esiste veramente, ed è importante che in particolare chi si interessa a guidare, a formare le persone, abiti tutti a conoscere il proprio territorio, a stare in mezzo all'agenda, ad uscire nelle piazze, ad andare nelle case, effettivamente ad incontrare quelle che sono i bisognosi della propria parrocchia. e chiudo, e i giovani, questi giovani a cui il problema dell'accoglienza, dell'integrazione non interessa per niente la responsabilità di chi è, è della scuola, è della chiesa, è di noi genitori che abbiamo cresciuto in questa società. Grazie Bartolo. L'ultimo intervento e poi andiamo verso la chiusura, se c'è. Eccellenza, sì, prego. Mi sembra che... ecco, perfetto. Allora, grazie degli interventi che veramente sono molto interessanti. Sono uscite varie questioni, certamente il discorso dei popoli che interpellano era nella profezia di Paolo VI, un Papa che solo ora si sta riscoprendo e che era in continuazione della pace minterris di Giovanni XXIII. Giustamente è stato detto, c'è la globalizzazione delle monete, eccetera, delle merce, ma non quella degli uomini. Quando fu fatta la moneta unificata, Prodi, che era allora presidente del Consiglio italiano, si battè fortemente perché si arrivasse a una unità maggiore di popoli, partendo almeno dalla lingua. e che quindi, vicino al discorso della moneta, unica si potesse immaginare una lingua unica in Europa. Quale? E allora lì sono cominciate le liti. Gli inglesi dicevano o l'inglese o nulla. Giscard d'Estaing, che era allora presidente della Francia, e che non volle le radici cristiane e giudaiche in Europa. La Francia, la lingua francese, non può essere da meno o in secondo piano, e quindi non si concluse nulla. Certamente il discorso della lingua è fondamentale in un contesto di integrazione. E allora sul discorso dell'integrazione è da poter vedere che possa procedere da un momento prima che deve essere l'intercultura. I modelli integrativi europei sono stati un po' fallimentari. Abbiamo visto quello in Germania, che non era di integrazione, ma era di con... Quindi c'erano uno e c'erano gli altri. Un milione di turchi che stavano in Germania. L'integrazione era solo lavorativa, ed è ancora. Quindi l'integrazione culturale, l'integrazione negli altri aspetti sociali, non esiste. E né c'è una volontà della nazione. L'unica integrazione è quella lavorativa. L'integrazione francese ha fallito ugualmente. Abbiamo visto le banlie, quello che è successo. A Marsiglia, a Parigi, a Nizza. Proprio la rivoluzione, quindi arrivare a dei ghetti dove la polizia francese non ha diritto, tra virgolette, di entrare. Chiaro potrebbe entrare con la forza, ma c'è una legge non scritta in cui non entrano e che quindi diventa un'autogestione all'interno. E quindi un'autogestione con delle regole che diventano soprattutto quelli della maggioranza e quindi la sciaria diventa legge all'interno di quella realtà. E quindi con una contraddizione in termini perché quello che avviene lì all'interno poi non vale all'esterno. se lì si possono avere quattro mogli e all'esterno diventava... È stato quindi un fallimento. L'Italia ha cercato una intercultura che non ha portato a effetti negativi. Quindi perlomeno c'è stato un modo di sopravvivenza, anzi anche qualche cosa di più in molte città. che vicino al discorso lavorativo c'è stato un saper prendere alcuni elementi della nazione ospitante ma accogliere anche quelli delle nuove generazioni che venivano, dei nuovi cittadini. E quindi per esempio pensate quanto nelle scuole, in alcune scuole, almeno anche a Roma, io ricordo benissimo di avervi partecipato, in certe feste scolastiche i genitori delle diverse nazionalità portavano, non solo venivano con i loro vestiti, ma portavano i loro prodotti food. Quindi quello che mangiavano diventava quindi un mettere insieme tutto quanto. Nelle feste dei bambini una partecipazione inter e quindi portare il senso delle loro feste, eccetera. Quindi il modello italiano, dobbiamo dire, in Europa è quello che è meglio riuscito, non ottimale certamente. I fenomeni che si sono verificati, tipo a Roma, Torsaviense, eccetera, non dipendevano minimamente dagli immigrati, erano forze esterne. e andai il giorno dopo a vedere... Quindi Casa Pound aveva organizzato tutto questo per mettere un sobbuglio. Quindi sobbillando anche la gente del quartiere perché protestassero, voi date solo a questi e non a noi, tutte queste cose che non avevano reale fondamento. Quindi l'integrazione io penso che debba essere il passo successivo della cultura, dell'intercultura. E quello che diceva Bartolo è un discorso molto importante. In Chiesa c'è una cosa, al di fuori non c'è, al di fuori c'è un altro mondo. Siamo in un momento in cui la cultura cattolica, che rimane fondamento negli italiani, quindi anche l'ultima statistica del Censis e di Derita, che l'abbiamo fatta commissionata proprio dalla Diocesi di Roma, rivela che il tessuto, non solo a Roma, ma anche in Italia, rimane profondamente di un cattolicesimo di tradizione che oggi si viene a incontrare con una cultura che è il postmoderno. non c'è più la modernità. Siamo ormai in una fase della postmodernità, quindi di una società liquida, in cui si vive di emozioni, di sensazioni, dell'immediato, per cui la sintesi, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni, non avviene con quello che è l'esperienza cattolica. dobbiamo ritrovare noi, pastori anzitutto, un modello diverso di come presentare il Vangelo, la buona notizia, l'accoglienza a queste generazioni nuove. Perché queste parole a loro non dicono più nulla, la parola accoglienza a questi ragazzi che vivono del digitale, i nativi digitali, non esiste. Non sanno più neanche mettere le frasi di una logica, è vero? Si sta tornato, pensate, siamo nella postmodernità e torniamo ai primitivi. I primitivi si esprimevano con dei segni nelle caverne, c'era il segno oggi, tutti i messaggini avvengono con quei segni. Quindi non sanno più neanche avere il senso delle parole o del discorso. Per cui è compito nostro ritrovare un modo di come presentare il Vangelo a questi. È la stessa esperienza che vive San Paolo quando dopo aver evangelizzato il Ponto, la Cappadocia, la Troade, tutto un mondo che viveva sull'unità della persona, il Nefesh, eccetera, va ad Atene e annuncia Gesù Cristo risorto e i sapienti del Partenone gli ridono in faccia. Gli sei venuto a raccontarci Barzellit. San Paolo entra in crisi. Si rende conto che pur avendo un contenuto valido che in quella cultura era valida, nella cultura greco-romana che era completamente diversa, non aveva proprio substrato. la cultura greco-romana si fondava non sull'unità ma su un dualismo uomo-donna, bene-male, cielo-terra e quindi rivede tutto il suo modo di annunciare Gesù Cristo risorto. La lettera agli Efesini è molto diversa dalla lettera ai Romani. Quindi uno dice ma se è la stessa persona è lo stesso autore che scrive queste cose capite bene? Quindi che deve essere veramente un laboratorio di noi cristiani di noi cattolici per riproporre soprattutto alle nuove generazioni questo messaggio che è un messaggio di gioia di validità di accoglienza. forse bisognerebbe passare dalla tradizione alla cultura. Siamo più tradizione e meno cultura e questo poi crea questo handicap. La cultura ti impregna ti dà un'identità ti porta ad essere la tradizione ti porta a tramandare. Ma io volevo dire solamente una cosa che forse non c'entra ma c'entra un giorno eravamo con padre Puglisi in un convegno della crociata del Vangelo con padre Revilli e lui mi raccontava tutte le traversie che stavo vivendo nella sua parrocchia. Io raccontavo un po' le mie a un certo punto io disse Penù sta attendo che ti ammazzo sapete non mi rispose mi fece un sorriso come a dire più di quello non possono fare che significa quando uno ha un'identità non ha paura nemmeno della morte si ha paura della morte quando non si sa chi è chi si è quando non si sa chi si è allora il futuro diventa ignoto l'ignoto fa paura. Volevo dire una cosa per concludere troverete lì un libricino che qualcuno ha scritto su di noi sulla nostra esperienza è scritto in titola Beniamino Sacco migrante la pedagogia dell'accoglienza se volete ve lo regalano se volete dare un'offerta la date ma non importa l'importante è che lo prendiate i soldi il signoruzzo ce li fa trovare sempre ma da parte toccare i sacchetti dei cristiani è difficile cioè è difficile cioè noi ce ne andiamo a toccare tutte le cose ma i soldi niente sono proprietà mia e guai che me le tocca se trovate qualche centesimo sparso nelle vostre tasche e che riuscite a trovare se riuscite a trovare sapete e concludo facevamo un teatro dopodiché passaro a raccogliere qualcosa c'era un capofila di una fila di sette persone prese due euro e li deposito e poi disse ho pagato io per tutti si considerava un Gesù Cristo a livello economico poverino ha pagato troppo poco bene grazie Papa Francesco a Lampedusa ci ricordava anche della globalizzazione dell'indifferenza ci siamo abituati un po' alle sofferenze quasi a non farci caso il fatto di ritrovarci stasera qui è perché il nostro cuore vuole veramente ed è teso all'accoglienza con i temi del forestiero che abbiamo ascoltato dell'ospitalità che è tipica nostra di questo territorio per questo la diocesi abbiamo già detto che è l'inizio questo di stasera è l'apertura di un percorso di formazione in formazione sul tema che in qualche modo in questi prossimi mesi insieme a tante altre realtà del nostro territorio diocesano vogliamo portare avanti quindi incontrando le comunità incontrando le famiglie le persone che possono anche attorno al progetto rifugiati a casa mia trovare il senso di mettersi in discussione soprattutto di quella gioia dell'accogliere delle persone di cui magari qualcuno ci ha parlato ma con la possibilità direttamente di ascoltarli grazie a tutti buona serata grazie grazie a tutti grazie a tutti